Buongiorno, oggi è sabato 25 luglio. Ecco le notizie più importanti della settimana selezionate da Ascolta la Notizia. Facciamo il punto sulla pandemia di coronavirus. Questa settimana il numero di contagi di coronavirus registrati nel mondo ha superato quota 15 milioni. È quanto emerso dal conteggio della Johns Hopkins University di Washington sui casi individuati in tutto il mondo, aggiornato a mercoledì 22 luglio. Negli USA, nella sola giornata di giovedì, sono stati registrati più di 76.500 nuovi casi di coronavirus, un numero che si avvicina al record delle 24 ore, e 1.225 morti. La situazione peggiora anche in America Latina e nei Caraibi, dove sono stati superati i 4 milioni di casi, 2 milioni dei quali sono stati registrati soltanto in Brasile. Mentre l'Europa supera i 3 milioni di contagi, preoccupano i casi di Australia e Sudafrica. Giovedì, nello stato australiano di Victoria, di cui Melbourne è la capitale, sono stati registrati 422 nuovi casi. In Sudafrica, ad allarmare, è invece il numero di decessi a causa del coronavirus. Nelle ultime settimane c'è stato un incremento di quasi il 60% del numero totale di decessi naturali. Passiamo alla cronaca italiana. Ha scatenato un'ondata di indignazione la vicenda della caserma dei Carabinieri Levante di Piacenza. Un'inchiesta della Procura piacentina ha portato all'arresto di sei militari e al sequestro della caserma. Faccio fatica a definire questi soggetti come carabinieri, perché i loro sono stati comportamenti criminali. Non c'è stato nulla in questa caserma di lecito, ha dichiarato in conferenza stampa il capo della Procura di Piacenza, Grazia Pradella, che ha aggiunto Tutti gli illeciti più gravi sono stati commessi in piena epoca Covid e del lockdown, con disprezzo delle più elementari regole di cautela imposte dai decreti del Presidente del Consiglio. Siamo di fronte a reati impressionanti, se si pensa che sono stati commessi da militari dell'arma dei Carabinieri. Si tratta di aspetti molto gravi e incomprensibili agli stessi inquirenti che hanno indagato, ha sottolineato Pradella. Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, che fu arrestato dai carabinieri condannati per il suo pestaggio nel novembre scorso, ha dichiarato che non bisogna parlare di singole mele marce, perché i casi stanno diventando troppi. L'autore di Gomorra, Roberto Saviano, ha definito ciò che è accaduto nella caserma dei Carabinieri di Piacenza, tra le vicende più drammatiche della storia della Repubblica. Guardo le foto da Bulli, leggo le loro intercettazioni e ho voglia di urlare solo questo. Voi non siete carabinieri, ha scritto su Twitter lo scrittore. Chiudiamo con l'economia italiana. Le assunzioni nel settore privato nei primi quattro mesi del 2020 sono state 1.493.000. Lo ha rilevato l'Inps nel suo osservatorio sul precariato. Rispetto allo stesso periodo del 2019, la contrazione è stata molto forte, meno 39%, ed è risultata particolarmente rilevante nel mese di aprile, meno 83%, ancora più del mese di marzo, meno 45%, per effetto dell'emergenza legata alla pandemia Covid-19 e le conseguenti restrizioni. Obbligo di chiusura delle attività non essenziali, nonché la più generale caduta della produzione e dei consumi, ha fatto sapere l'Istituto, che ha spiegato. Tutte le tipologie contrattuali sono state interessate, ma in maniera nettamente accentuata ciò vale per le assunzioni con contratti di lavoro a termine. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento a sabato prossimo. A risentirci!